Gentili telespettatori, buona giornata e così pure Draghi parla della sinistra sbugiardandola. Dice con lui, il nuovo presidente degli Stati Uniti, un cambiamento ci sarà, ma non è mica per forza negativo. Voi direte, in che senso? E' nel senso che la sinistra è da due o tre giorni che si strappa le vesti dicendo che ormai tutto è perduto. Vabbè, diceva che ormai tutto era perduto anche quando la Meloni vinse le elezioni, davano ormai il mondo alla fine, e invece non fu così. E anche adesso dicono la stessa cosa. Mario Draghi prova a muovere l'Europa dal letargo e dice, mi auguro che ritroveremo uno spirito unitario con cui riusciremo a, come dire, trovare il meglio da questi grandi cambiamenti. Andare in ordine sparso, siamo troppo piccoli, non si va da nessuna parte, l'Unione Europea è pronta a un eventuale conflitto commerciale con gli Stati Uniti? Ho appena detto che bisogna negoziare con l'alleato americano, in maniera tale da proteggere anche i nostri produttori europei. Le parole nel rispondere alle domande dei giornalisti al vertice di Budapest. E poi parla del rapporto sulla competitività in Europa e aggiunge, già urgenti, data la situazione economica in cui siamo oggi, ora sono diventate ancora più urgenti dopo le elezioni negli Stati Uniti, perché non c'è alcun dubbio che la presidenza nuova farà grande differenza nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa. Ma non necessariamente tutto in senso negativo, ma certamente noi dovremmo prenderne atto dal punto di vista della prospettiva del rapporto, quindi del rilancio della competizione in Europa, un paio di cose che vengono in mente sono che questa amministrazione sicuramente darà grande impulso ulteriore al settore tecnologico, al cosiddetto high-tech, dove noi siamo già molto indietro e questo è il settore trainante della produttività. Già ora, aggiunge Draghi, la differenza della produttività tra gli Stati Uniti e l'Europa è molto ampia, quindi noi dovremmo in un certo senso agire e gran parte delle indicazioni del rapporto vanno proprio solo su questo tema. L'altro esempio è che sicuramente si sa poco di quello che succederà esattamente, ma una sembra più sicura delle altre, e cioè che il nuovo Presidente degli Stati Uniti tanto impulso lo darà nei settori innovativi e tanto proteggerà le industrie tradizionali, che sono proprio le industrie dove noi esportiamo di più negli Stati Uniti. Quindi, dice Draghi, indica la via, lì dovremmo negoziare con l'alleato americano, con uno spirito unitario in maniera tale da proteggere anche i nostri prodotti europei. anche la Schlein è andata a parlare due giorni fa con Draghi, a casa di Draghi si vede anche il mare, o quello era a casa di Luca si vede anche il mare, è andato a parlare a casa di Draghi, infatti ne è venuta fuori il giorno dopo ripetendo le cose che probabilmente Draghi le ha detto, l'Europa deve essere coesa, deve unirsi perché adesso con Trump le cose possono cambiare, deve avere una difesa unica, più forte, spendere di più per la difesa, insomma Draghi ha raccontato a Schlein quello che lui vede oggi e lei il giorno dopo ha ripetuto queste cose qua. Non le sta più ripetendo, probabilmente gli sono entrati di qua, gli sono usciti di qua, in poche ore. Vabbè, anche la Meloni ha parlato con Draghi, la Schlein ha parlato con Draghi perché rimane sempre uno dei più grandi guru mondiali dell'economia, riesce a vedere le cose, come si sviluppano, come si svilupperanno in un futuro prossimo e riesce a valutare tante cose. Quindi sia la Meloni che la Schlein chiedono consiglio a lui. Vi ricordo che per esempio quando c'era Barack Obama, il Presidente degli Stati Uniti quando aveva qualcosa di economico, qualche problema, diceva telefonate a Mario e vi fate spiegare. Quindi il Presidente degli Stati Uniti diceva telefonate a Mario e vi fate spiegare quello che dobbiamo fare, e lo facciamo. Quindi preso proprio come un guru dell'economia, come una sorta di santone dell'economia, il Sai Baba dell'economia. E infatti Meloni, Schlein, molto spesso lo chiamano, lo incontrano per sapere quello che sta succedendo, quello che succederà e come sarebbe meglio comportarsi. Certo, Trump avrebbe potuto essere al posto della von der Leyen, ecco, forse Trump al posto della von der Leyen sarebbe stata la cosa migliore. La copiata Trump-Meloni, una gestione dell'Europa all'italiana sarebbe stata, secondo me, la cosa migliore. Però la Meloni già si avvia ad essere il referente degli Stati Uniti, per esempio, in Europa, perché non essendoci più Angela Merkel, non essendoci più poi il punto e il fatto appunto sugli altri leader, Schultz, Macron, ormai in Europa diciamo che la Meloni è quella che detta legge, che indirizza la politica europea e questi se ne sono accorti un po' tutti. Lo scriveva proprio ieri il Sole 24 Ore e poi l'ho letto anche su altri giornali importanti che dicevano proprio questo. La Meloni ormai è il referente per l'Europa e lei ufficiosamente quella che comanda in Europa. Poi le decisioni passano dalla von der Leyen, però alla fine è la Meloni che gestisce un po' il tutto. Grazie per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete e poi questi video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Luca Vincitore, dove lì se volete potete condividere sui vostri profili questi video. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.